Grazie a Gianluigi Simonetti e a Mazzoni D'Amico che sono due fra i migliori critici di questo paese, quindi abbiamo l'onore di essere presentati, Cristina Marconi e indirettamente io abbiamo l'onore di essere presentati in maniera emerita questa sera, teniamo molto questa presentazione, siamo molto felici che il premio Streghe abbia negli ultimi anni un po' cambiato le regole del gioco inserendo dei voti collettivi, inserendo dei voti diciamo grossomodo anonimi nel senso che non possono essere influenzati dai meccanismi con cui altri voti tendono ad essere influenzati, soprattutto in questo premio, un po' in tutti i premi ma soprattutto in questo. Questo garantisce per noi che voi siete indipendenti e ininfluenzabili quindi in un certo senso sarebbe bello vedervi tutti dietro un velo oggi e non potervi guardare in faccia, non potervi neanche cercare di persuadere eccetera. Fate attenzione vi prego a questo libro perché è il libro di un esordiente, fra i dodici libri dello strega diciamo è sostanzialmente l'unica vera esordiente, questo significa che è riuscita a farsi strada in un ambito altrimenti non facile, significa anche che in un certo senso ha il merito di partire con uno slancio diverso, in un certo senso anche con un piccolo handicap perché chiaramente Cristina anche se è una giornalista importante per chi segue i fatti inglesi, per chi segue la stampa italiana l'avrà letta, vista in televisione tantissime volte, però è all'esordio come scrittrice un esordio che io nella mia esperienza di tore trovo particolarmente solido, particolarmente maturo è molto difficile trovare un esordiente che non sembra affatto un esordiente nella sua scrittura che sembra così padrone, padrona in questo caso della propria penna vi invito a fare particolare attenzione a questo libro perché potreste invece essere attratti da autori più noti da marchi più blasonati eccetera, ma sono certo che se potrete, se alcuni di voi già non l'hanno fatto e li ringrazio in anticipo per l'interesse, se dedicherete a questo libro l'attenzione che io credo meriti spero e conto che sarete pienamente ripagati dal piacere di una lettura non comune grazie ancora a tutti e cedo la parola a Gianluigi il compito che mi è stato assegnato è proprio quello di introdurre però rapidamente non vi preoccupate il libro di Cristina io vorrei farlo magari in maniera non canonica cioè non perdendo troppo tempo con indicazioni sulla trama che molto brevemente è legata alla storia di Alina questa giovane romana che lascia l'Italia nel 2008 e diciamo questa parabola temporale in cui lei appunto lascia Roma per Londra la città irreale del titolo è la storia di una formazione, di un'esperienza lavorativa, sentimentale, umana che si incrocia con quello invece di un inglese, Yain con questa storia d'amore con i suoi alti e bassi e che contiene anche tra l'altro una specularità insomma a sua volta Yain è stato un inglese che ha conosciuto nel passato l'Italia gli ha trascorso un periodo da volontario con la sua fidanzata di allora quindi insomma sono due culture non solo due personaggi che si incontrano un po' anche si scontrano si può forse anche dire che un terzo protagonista è la città irreale stessa cioè questa dimensione di Londra scoperta a poco a poco da Alina Alina non è il classico non è l'emigrante che per bisogno lascia l'Italia per andare in una mecca lei a Roma un lavoro fisso addirittura ce l'aveva già quello che la spinge è qualcosa di diverso dalla semplice sussistenza è appunto un desiderio più complesso, più articolato, più sfumato io credo sia una delle cose belle del libro anche più anche ricco forse di non detto di rimosso, di inconscio tutto il libro ha una sua parte diciamo esposta molto amichevole e molto ben disposta verso il lettore però a mio avviso ed è uno dei punti forti del libro c'è poi appunto uno o due strati più nascosti che il lettore stesso è invitato a decifrare e mi sembra che Alina sia da questo punto di vista un personaggio ricco di sfumature in particolare Alina ecco io non direi altro sulla trama vorrei dire quello che invece personalmente mi ha colpito del libro ma che credo possa essere utile anche al di là della mia impressione di lettura dire per introdurre questo libro nel contesto generale dell'analitiva italiana di questi anni perché è un libro che ha secondo me qualcosa di molto specifico però è anche un libro che dialoga con altri invece sforzi dell'analitiva italiana contemporanea a cominciare da questa scelta vi dicevo la protagonista è anche Londra la scelta cioè di partire da un luogo per costruire un edificio romanzesco questa è una scelta battuta negli ultimi anni con alterne fortune in questo caso secondo me in maniera molto felice ma è una scelta anche che allude a una dimensione culturale che stiamo attraversando il romanzo mi pare si sta spostando molto verso la geografia e verso la spazialità rispetto a quello che era invece la sua dimensione classica otto-novecentesca più legata ai giochi col tempo, con la durata qui naturalmente l'asse cronologico, l'asse temporale c'è non solo perché la vicenda ha una gittata lunga, decennale ma anche perché ci sono dei flashback delle analessi e dei recuperi temporali ma è chiaro che si parte però da questa dimensione da questa dimensione molto contemporanea secondo me della spazialità e anche della spazialità dell'esperienza dell'orizzontalità dell'esperienza della cultura l'altra volta, l'altro ieri eravamo a Torino e ho incrociato Cristina alla Olden un posto in cui non ero mai stato e che ho visto per la prima volta è un posto ricco di mappe cioè un edificio in cui sono esposte mappe di vario tipo proprio perché appunto mi pare che la dimensione attuale della cultura sia molto orientata a questa rappresentazione orizzontale e un po' simultanea in cui epoche, autori, opere di diverso tipo di diversa provenienza possono convivere allora in questa dimensione mi pare che il libro Dialoghi il libro di Cristina Cittareale Dialoghi con altri libri importanti di questi anni poi un altro aspetto che a me ha fatto pensare una stagione abbastanza lontana ma viva della cultura della narrativa italiana cioè i primi anni 80 un altro aspetto riguarda questo desiderio di uscire dall'Italia cioè non solo partire da un luogo ma anche uscire da una dimensione solo italiana è una cosa che nella narrativa italiana è successa nei primi anni 80 a un certo punto alcuni bravissimi esordienti come esordiente Cristina Tondelli, Del Giudice, De Carlo tra anni 80, 81, 82, 84 Busi e altri seminari della gioventù scrivono dei romanzi importanti che sono romanzi in cui l'Italia quasi non c'è più o c'è poco o non c'è affatto ci sono invece l'Inghilterra, la Germania, la Francia gli Stati Uniti, Trano di Panna che di questi mi sembra tra l'altro il più simile il bel esordio di De Carlo di quegli anni e sono libri che nascevano anche da un rifiuto dell'Italia come era diventata naturalmente nel corso degli anni 70 Parise diceva negli anni 70 il paese della politica ora naturalmente siamo in un'epoca completamente diversa da quella l'Italia secondo me è restata il paese della politica e ho l'impressione che questa voglia di parlare d'altro sia in questo senso più specificamente Cristina a scegliere questo tema sia anche il frutto di una volontà di rinascere, di ricostruirsi anche linguisticamente su un'altra tradizione questo romanzo in cui la tradizione letteraria è presente il che è tutt'altro che comune nella maggior parte dei libri italiani che vengono pubblicati in questi anni c'è un modello che appartiene ci sono dei modelli mi pare che appartengono alla tradizione letteraria però c'è anche la voglia di rinnovare un po' mi pare il catalogo dei modelli narrativi italiani e di guardarsi anche in questo senso più intorno infine terza cosa che mi sembra molto importante da dire che riguarda specificamente Città e Reale il modo in cui appunto questo libro dialoga con i suoi compagni di questi anni romanzi italiani di giovani autori di questi anni riguarda la volontà di a partire da questa operazione su un luogo su un luogo straniero evitare i cliché secondo me una cosa molto bella di questo libro è che delude le aspettative del lettore che si aspetta la storia canonica di un cervello in fuga che scopre un mondo diverso e più ricco e si imbatte nella Brexit per poi scoprire che i suoi sogni sono infranti questo è quello che Cristina evita di fare perché in realtà quello che Cristina ci dà in questo libro è proprio uno slalom fra i cliché quelli che potete leggere sui giornali che potete ascoltare nei telegiornali appunto su quello che i giovani italiani che emigrano si aspettano dall'estero dall'occidente dall'Inghilterra in particolare da Londra e naturalmente tutti i cliché che potete sentire sulla Brexit no qui c'è c'è sì un taglio generazionale c'è sì una volontà di legarsi all'attualità al presente direi più che all'attualità e in qualche modo interpretarla però c'è soprattutto la determinazione a evitare le banalità e quindi a darci una lettura diversa e più profonda di quello che ci sta succedendo intorno innanzitutto già il titolo mi sembra significativo da questo punto di vista città irreale naturalmente è una citazione raffinata e colta e liuetiana però è anche secondo me un titolo che tocca il fascino profondo il nucleo di fascino di Londra agli occhi di Alina una città che affascina proprio perché irreale perché consente di rispecchiarsi in qualcosa che c'è e non c'è consente di di ricrearsi e di reimmaginarsi se c'è un taglio generazionale e io credo che ci sia e se c'è un significato politico in questo libro che è invece costruito mi sembra proprio sul rifiuto della politica in senso letterale e specifico è proprio in questo personaggio Alina in questa sua volontà di rappresentarsi anche un po' fantasticamente in questa città in questa città mi limiterei forse a una pagina anzi a mezza a cinque righe per darvi l'idea di che cosa intendo quando parlo di slano fra i cliché e poi senz'altro ci do la parola al masolino d'amico un paragrafo come questo è Alina che parla dalle mie passeggiate avevo imparato molte cose e se degli inglesi avevo capito poco mi colpiva però il modo di vivere che avevano scelto come se su ciascuno di loro ci dovesse essere il cartellino del prezzo amavano le stesse cose e si definivano attraverso la qualità della versione che si potevano permettere in un sistema di gradazioni che mi faceva impressione quella sera tra i fantasmi cremosi di Notting Hill sentii per la prima volta acuto un divario che finora avevo cercato di ignorare c'è molta buona sociologia in questo libro per chiudere molte osservazioni acute appunto non convenzionali non solo sulla realtà oggettiva sulla realtà della città irreale ma anche e forse soprattutto su quello che noi oggi siamo in questo scenario globale ed è anche per questo questo è un libro che merita di essere letto con attenzione e cosa non comune direi nel diluvio di testi narrativi da cui siamo sommersi anche riletto grazie e cedo la parola a Masolino Rami anche io ho sentito con molto interesse perché a me questo libro è capitato io non mi non seguo molto la letteratura italiana oddio un po' sì perché mi tocca leggere i libri che arrivano ai premi letterari dove io voto ma come scelta leggo poca letteratura italiana contemporanea e meno romanzi che posso devo dire la verità ne ho letti tanti in passato adesso non li leggo più quindi questo libro è un po' è stata un'esperienza un po' diversa dal solito ma l'ho trovato e l'ho trovato interessante ora perché l'ho presentato l'ho presentato puoi presentare intendiamoci io avevo un nonno che era un un grande critico letterario un personaggio molto autorevole e noi ragazzini io e mia sorella cercavamo di influenzare avevamo degli amici giovani scrittori perché non parli di questo lui naturalmente non ce l'avrebbe retta minimamente una volta presentò un libro a un premio strega che ci indignò diceva ma nonno ma ti pare un libro da presentare ma non dice perché no mi presenti questo io lo presento presento poi faranno si mettono d'accordo fra loro c'entro niente ecco io lo presento nel senso che mi farebbe piacere che la gente che i lettori lo leggessero e si facessero un loro giudizio perché è un libro originale curioso non dico strano perché non è strano per niente è una scrittrice molto competente la cosa che colpisce è il controllo della situazione di solito gli scrittori non dico solo gli esordienti ma ci mettono un po' a sapere quello che stanno facendo lei dà la sensazione che lo sa sempre e lo dà in un libro che non è affatto lineare semplice da seguire tanto per come i romanzi nascono per semplificare la vita non per complicarla nascono per mettere ordine per trovare un senso nella storia dargli un principio un seguito e una fine e di solito sono affidabili in quanto la persona che ce li racconta è affidabile anche lì certi romanzi sono raccontati da uno che non si sa chi è certi romanzi sono raccontati da uno che racconta di se stesso e quindi dice solo le cose che ha visto oppure come fa Conrad se l'è fatto raccontare da un altro e lo dice anche qui tanto per cominciare il punto di vista del narratore è molto scisso perché ci sono dei pezzi che sono in prima persona e dei pezzi che sono in terza persona e non sappiamo veramente chi è che ce li racconta questo dovrebbe essere spiazzante non lo è perché questo romanzo è un romanzo moderno ossia smette di fare quello che di solito che i romanzi hanno fatto per secoli cioè di ordinare la realtà di dargli un senso di dare un ma ahimè com'è la vita la vita non arriva regolarmente sono dei pezzi e non arriva nemmeno in successione cronologica ci capita di capire che una cosa che è successa dieci anni fa è spaventosamente attuale e importante mentre quello che mi sta succedendo adesso in realtà non conta forse si vedrà quindi questo andare avanti e dietro che succede in questo libro non solo ma non va avanti e indietro la stessa storia va avanti e indietro tirando fuori degli altri personaggi cioè noi ci interessiamo al passato di due personaggi che nel presente non ci sono nessuno dei due oppure uno un po' e poi un altro un personaggio che sembrava importante a tratti sparisce e non c'è più quindi sono frammenti che però si reggono sul fatto che sono perfettamente controllati e strutturati quindi tasselli quando poi siamo arrivati alla fine non ci viene chiesto come si poteva pensare di mettere ordine in questo affare come sono per esempio i libri gialli dove arrivano delle cose che non si capiscono però noi sappiamo che alla fine capirò tutto ah ecco quello era lì e quello non c'era più è così anche qui un sacco di cose che non ci vengono mai spiegate perché non ci vengono spiegate perché la vita è così sono le cose che non sapremo mai tutto questo in un ambiente invece che sembra semplice lineare questa Londra che non mi sembra nemmeno così importante per la verità non è la cosa che mi ha incuriosito di più anche perché Londra basta nella mia vita c'è stata tanto quindi la Londra di adesso non è così questa Londra qui non è così straordinaria o così interessante infatti gli inglesi non ne parlano gli scrittori inglesi di adesso parlano della Londra delle periferie degli immigrati delle lingue diverse eccetera questa è un po' la Londra dei figli di tutti i nostri amici che stanno a fare il broker lì e che telefonano tutti i giorni è come se stessero qua si cucinano italiano si sromanizzano un po' lei fa fa la carbonara col parmigiano a un certo punto non voglio aggiungere altro li conosciamo questi ragazzi quindi non è che ci raccontano molto ci diverte in questo libro il loro chiacchiericcio le cose di cui si occupano che non sono delle cose particolarmente interessanti è quello che ci aspettavamo infatti la storia non è questa la storia è un'altra la storia è una persona che cerca di capire quello che sta succedendo in un ambiente che è così anche banalotto questa Londra qua ci sono stati tutti a Londra ormai tutti sono stati dappertutto figuraci a Londra è come fare due passi si fa per 24 ore quindi non è questo ma è un posto diverso dove effettivamente questa persona qui che parla di sé e che per traslato osserva anche degli altri mette insieme dei pezzi non di una storia ma di se stessa della sua vita capisce delle cose ma io allora sono intelligente sì a quanto pare sì poi scopri che questo conta fino a un certo punto perché poi ti cacciano via dal lavoro lo stesso come in Italia ma però funziono capisco imparo la lingua mi sintonizzo con questi qua sono buffi ma li capisco mi capiscono e si fa strada ma questo mentre succedono delle altre cose le altre cose sono abbastanza interessanti anzi sono forse certe cose io avrei voluto saperne di più quando c'è un antefatto in cui due personaggi uno dei quali sparirà vanno a fare questo stage in Italia strano due inglesi vanno a finire vanno a Reggio Emilia dove fanno un programma in un carcere di teatro amatoriale figuriamoci io volevo vedere com'era sto terra amatoriale non ci lo dice per niente è successa questa cosa a lei interessa un'altra faccenda interessa come questa cosa un pochino li cambia questo contatto in un mondo diverso è tutta sui contatti in un contesto diverso e quindi io non ho saputo più niente di questo spettacolo in carcere avevo voluto vedere come cosa veniva fuori no però interessante qualcosa succede succede che un detenuto in qualche modo si sintonizza con una di queste con questa ragazza si scrive poi non succede niente ma c'è questa scintilla effettivamente è un romanzo in cui si va avanti a cose che poi non succedono che sembrano che stanno per succedere e non succede quindi questo mi ha colpito che è un libro insolito in realtà sembra tutto facile e infatti quando vai a vedere la sintesi che ne daranno quando le vogliono riassumere poche righe per un lettore l'esperienza di una ragazza che va a Londra e trova no questo particolare c'è ma non è la cosa importante del libro per niente l'importante del libro è proprio il libro come tutto questo viene montato varie sfaccettature e con questi salti avanti e indietro che sono piuttosto spiazzanti bisogna sempre leggere le date ricordarsi qual era la data prima nel 99 adesso è nel 2001 i posti anche tutto fatto molto bene ecco questo è la diciamo la la carta vincente del libro che lei lo sa fare questo lo fa lo fa preordinatamente allora vedere uno che sa fare una cosa è sempre uno spettacolo affascinante e qui il popolo vedete che lo sa fare noi diciamo come lavora bene si diceva una volta vedere l'attore quando uno vede anche un operaio tutti si mettono a guardare guarda che brava e qui lei è brava perché dice ma come fa a tenere in piedi questa cosa invece ci riesce anche levando anche proprio non dicendo quindi insomma è una scrittrice che si fa leggere e quindi io consiglio di fare quel po' di esercizio che si fa leggendo questo libro che non è affatto un libro che si legge così semplicemente è semplice nella pagina ma molto complesso nell'architettura non ho molto altro da dire ma mi piacerebbe invece che sentire qualche cosa di quello che dice l'autrice perché può essere pure che tutto questo non corrisponde all'idea che ha di se stessa ma non importa ce l'ho io facciamo così forse lo possiamo dire ecco allora io io sono senza parole però vabbè adesso le trovo subito perché sono stati insomma in queste due presentazioni sono state colte diciamo due sfaccettature anzi più di due ovviamente di un libro che che ho molto amato scrivere quindi innanzitutto grazie mille di essere qui grazie mille al professor D'Amico e volevo dire una cosa io sono giornalista Ragigi scrive per il Sole 24 Ore ma come si capisce subito dalla competenza oceanica non è giornalista di formazione ma insegna letteratura all'Università dell'Aquila e ha scritto un bellissimo libro sulla letteratura italiana contemporanea che si chiama la letteratura circostante che consiglio a tutti perché è veramente un capolavoro per venendo invece al mio che è stato così così ben descritto e elogiato per me questo è un libro insomma non mi piace diciamo sono scrittrice da poco non mi piace dire che c'è stata un'urgenza nello scrivere la storia di Alina insomma tutti questi cliché che di solito si sentono molto in bocca agli scrittori però la verità è che c'è stata un'urgenza nel senso che sicuramente il primo motivo per mettere su pagina la storia di Alina è stata quella di dare profondità a una vicenda collettiva che forse negli anni 80 nel caso di Treno di Panna e degli altri bellissimi testi che hai citato non era ancora non aveva raggiunto questa portata gigantesca cioè si parlava di altri paesi ma in realtà non c'era una realtà gigantesca di persone che vivono ormai lontane dal loro paese io vivo lontana dal mio paese da 12 anni quindi ne ho viste tante ovviamente e soprattutto ho letto tanti stereotipi quindi c'è diciamo da parte mia una piccola voglia di buttarli giù uno dopo l'altro come i birilli perché mi danno fastidio perché li trovo spesso insomma riduttivi e sbilenti di una cosa che invece è epocale e che comunque contiene una quantità di energia alla quale insomma mi piaceva che si rendesse onore mi sentite? quindi insomma la storia dei cervelli in fuga o di chi finisce a fare il cameriere a Londra io la volevo la volevo raccontare nella sua tridimensionalità per me si tratta di ambizioni in fuga di intenzioni in fuga e possono essere a tutti i livelli per cui non è soltanto chi finisce nella city a fare tantissimi soldi o a lavare i piatti nei sottoscala a me interessava capire cos'è che ci spinge quindi questo diciamo per riprendere un pochino i temi trattati da Gigi per quanto riguarda invece le osservazioni del professor D'Amico che parla di un libro non lineare effettivamente questa è una cosa che anche mi aveva detto Vincenzo Ostuni quando aveva iniziato a leggerlo c'è bellissimo perché in realtà è un libro che ruota intorno a episodi che tu non racconti eppure il lettore ha la sensazione che in realtà in questi episodi ci siano tutti quanti cioè il lettore venga dotato di tutti gli strumenti per raccontarseli nella sua testa per sentirne l'odore i rumori e soprattutto quello che lascia sulla coscienza di chi li ha vissuti quindi è vero ci sono due storie c'è una storia di Alina giovane donna che magari in un altro tempo avrei fatto spostare dalla provincia alla capitale di un paese e che invece oggi porto da una città grande come Roma a una città gigantesca come Londra è una storia che potrebbe ambientarsi forse in altre capitali che però per me ha particolare valore rispetto a Londra perché non solo perché è il posto in cui vivo ma anche perché secondo me ha delle caratteristiche particolari e molto interessanti da un punto di vista di approfondimento psicologico cioè quando dice Gigi ha usato il termine l'aggettivo fantasmatico e mi ci ritrovo molto perché effettivamente è una città in cui è possibile essere reali e irreali a seconda dei momenti non c'è nulla che ti oggettifichi niente che ti dia ti faccia sentire lo spigolo della realtà che ti impone qualcosa nella quotidianità poi ovviamente gli spigoli arrivano nella vita di tutti perché non si può anche per un'indecisa patologica come la mia come la mia protagonista non si può per sempre sfuggire a quello che la realtà ti mette davanti e infatti arrivano poi i grandi fatti dei nostri tempi che possono essere appunto l'inizio di una crisi della crisi di Lehman Brothers che lei sente come un brusio alla radio una domenica mattina mentre si fa colazione sul divano oppure la Brexit che appunto è una lettura estremamente anche io poi da giornalista scrivendone tanto non mi piace quando parlano troppo della Brexit perché mi sembra che mi riportino alla mia vecchia scrittura cioè io in questo in questo senso ho voluto usare la Brexit come uno spigolo di realtà che ovviamente si avvicina a te e ti rende un po' più reale perché ti costringe come tutti i fatti grandi a prendere un po' le misure di quello che stai facendo quindi da questo punto di vista mi interessava parlarne e poi soprattutto mi interessava parlare di una fase di una città che secondo me è stata abbastanza irripetibile perché comunque sia Londra è riuscita ad attirare una tale quantità di persone e una tale quantità di storie avventure ambizioni e quant'altro da mettere secondo me un pochino sotto una luce problematica il concetto stesso di identità allora in un periodo in cui si parla di migrazioni in cui si parla di identità spesso in maniera soffocante angosciata così mi interessava fare un piccolo studio sul concetto di identità soprattutto partendo da un personaggio che pensa di poterne fare a meno di quest'identità perché la sua è una storia non di di formazione ma di riformazione parliamo di una ragazza di 26 anni che ha già il suo lavoro la sua vita volendo tracciata e che decide di voltare la pagina della sua vita cioè di ricominciare sotto auspici migliori forse o comunque sia in un contesto in cui ci siano diciamo le caratteristiche che le ritiene necessarie per prosperare che sono appunto la possibilità di crescere una possibilità di crescere infinita lo sappiamo è così insomma la grande megalopoli capitalista in cui ogni progetto può avere successo oppure non averlo e poi si ricomincia in cui comunque sia c'è una grande tolleranza un grande incoraggiamento nei confronti dell'avventura in generale e quindi in questo diciamo è una città che parte in reale e che poi si va definendo sempre più in maniera sempre più chiara quindi io ho una storia ho una controstoria ho una seconda storia che si intreccia soltanto in parte con quella di Alina che però secondo me che io ci tenevo a raccontare perché per me era importante soprattutto per dare il senso del fatto che comunque sia nessuna città irreale cioè è una città un passato ha una popolazione indigena con una mentalità con delle cose delle cose a cui tiene una maniera di raccontarle quelle cose di raccontare la propria esperienza e il proprio vissuto tante volte nei miei anni nei miei anni inglesi mi è capitato di parlare con persone con amici inglesi che hanno una maniera ovviamente molto diversa di raccontare se stessi questo riservo molto celebrato così a livello nazionale questa capacità di in qualche modo cancellare anche le ferite o far finta che si possano cancellare e mi sono sempre chiesta mamma mia tu pensa alla reazione tra una romana un po' pettegola un po' così vitale e animata da mille fuochi che si ritrova a dover decriptare letteralmente qualcuno che ha i suoi mille fuochi e le sue passioni le sue cose che però semplicemente non le sa verbalizzare nella stessa maniera c'è un conflitto che mi interessava quindi è un libro che per me nasce proprio dall'esigenza di raccontare varie scintille questa è una piccola scintilla di reazione che può dar fuochi può finire lì morire lì in questo caso non muore la scintilla di chi sceglie di complicarsi la vita oppure semplificarsela andando fuori scegliendo un percorso che non è particolarmente definito a me interessava molto anche fare del mio personaggio collocarlo diciamo in una situazione media per cui né come dire la fisica nucleare che viene chiamata a gran voce da qualche grande universitaria e ti dice tu solo tu puoi venire qui a salvarci no una segretaria poco più che una segretaria una ragazza che lavora in un ufficio che non voglio definire perché potrebbe essere qualunque ufficio e che però rivendica per sé il diritto a crescere il diritto a percorrere così una scalata fare una salita arrivare da qualche altra parte una parte che non sia un suo punto di partenza e in questo c'è anche molto per me c'è stato anche molto il tentativo di studiare di fare uno studio sulla generazione sulla mia generazione io sto per fare 40 anni e insomma quello che ho osservato e che ho visto delle persone diciamo più o meno nella mia fascia d'età è una crescita in cui fino magari a una certa età si è pensato che tutto sarebbe andato bene perché avevamo fatto molto per bene le cose avevamo studiato bene c'eravamo laureati c'eravamo laureati più di altre generazioni c'era stato tutto un percorso veramente affrontato con grande diligenza a cui poi la crisi ha completamente tagliato le gambe ha rimescolato le carte in tavola ha strappato sotto i piedi il terreno sul quale si pensava di prosperare lasciando magari intatte le preoccupazioni della generazione dei genitori come farai il posto fisso cosa succederà e tutto quanto però ovviamente quello che resta che è comunque una verità dell'essere umano che da qualche parte ti vuoi evolvere che in qualche modo vuoi crescere che in qualche modo vuoi cambiare la tua condizione di partenza quindi insomma queste sono un pochino le cose i principi che mi hanno orientata in questi anni e quindi secondo me attraverso una storia in cui invece si poteva raccontare una partenza diversa una partenza che invece era mossa come quella di Ian e Vicky negli anni 90 da un'intenzione diversa da un idealismo diverso da una volontà di cambiare il mondo di essere politici profondamente politici nel proprio approccio alle cose questa storia del teatro nelle carceri nasce dal racconto di un'amica inglese e la libertà con la quale lei mi racconta io ho fatto questa cosa negli anni 90 mi aveva veramente affascinato ho pensato guarda che che volontà di incidere sulla realtà che volontà di insomma era una cosa che mi aveva commosso e che ho voluto raccogliere e soprattutto ho voluto mettere fare così un mio piccolo esperimento chimico mettendo in contrasto questa partenza così piena di ovviamente conechi del grand tour del viaggio degli inglesi che amano l'Italia che amano il bello che lo vanno a cercare come parte integrante della loro formazione però anche questa partenza appunto piena di bisogno di andare a vedere dove le cose si fanno meglio dove le cose possono dove si può imparare qualcosa anche insomma per ricordare che comunque insomma il paese da cui tutti scappano è stato anche un paese molto molto bello e lo è ancora quindi e per fare tutto questo ho pensato che non lo so un po' come che tutto sommato procedere per cartoline procedere per cartoline insomma grazie al cielo mi garantisce il professor D'Amico ben montate ben allineate tra di loro in modo da così dare al lettore molte sensazioni molte immagini immergerlo in molte realtà però senza insomma senza farlo perdere poverino perché insomma io sui diritti dei lettori ce li ho molto a cuore insomma penso sia molto importante non ucciderli di noia e quindi mi è sembrato mi è sembrato un modo bello per non scrivere diciamo il romanzone il polpettone ecco per non fare il polpettone questo per me era importante e poi soprattutto perché ovviamente lo stile di scrittura poi alla fine io penso uno se lo può cesellare però non lo sceglie veramente insomma se senti che c'è una voce che sta venendo fuori in un certo modo forse è il caso di dargli retta quindi questo insomma non so se in parte risponde alle alle vostre domande o insomma o alle questioni che avete visto che avete che lei soprattutto sente aperte però insomma spero di di avere in parte così soddisfatto dunque noi sappiamo che che lei fa la giornalista quindi ha una molta esperienza anche della scrittura immediata della comunicazione ma letterariamente su che cosa si è formata cioè cosa legge solo per divertimento ha fatto studi non letterari veramente filosofici e poi si occupa appunto del giornalismo anche economico queste cose qua e la letteratura che cosa è per lei quali sono i suoi caposaldi allora io prima di fare la giornalista ho studiato filosofia e ho avuto modo di studiarla in un posto bello perché l'ho studiata alla normale di Pisa e dove sono stata circondata da persone da altri avidi lettori io ho sempre letto molto scuole francesi quindi tanta letteratura francese per me c'è tanta non dico c'è tanto Balzac perché mi piacerebbe ci fosse tanto Balzac nel libro c'è tanta idea mia di Balzac e come mi è rimasto da letture antiche e quindi sicuramente sono un'elettrice di cose di cose inglesi cioè George Eliot per me è stata un'influenza grande anche con qualche citazione un po' disseminata magari un po' nascosta nel libro per esempio di un romanzo che per me parla di Londra in maniera bellissima anche se è il romanzo più imperfetto della Eliot che è Daniel De Ronda che comunque ha una storia principale molto compiuta che è quella di Gwendoline però poi invece si perde in tutte delle lucubrazioni un po' politiche e così in cui Londra secondo me resta questo grande organismo industriale è veramente molto vivo e molto bello c'è Eliot Thomas sicuramente come denuncio chiaramente dai titoli dei capitoli dal titolo del libro e soprattutto il momento in cui ho deciso di passare dal passare al giornalismo il giornalismo resta per me la cosa importante quella che faccio tutti i giorni è la mia maniera primaria di raccontare le cose per me era molto importante scindere i due linguaggi scindere la maniera di raccontare è una cosa che ho detto tanto in questo periodo di interviste di interventi io penso sempre per tornare alla Brexit che vorrei citare il meno possibile io penso sempre che della Brexit non si sa niente quello che si sa è qui nel senso la verità che un po' resta irraccontabile è quanta energia forse anche distruttrice perché a un certo punto insomma vedersi arrivare queste orde di giovani in città insomma anno dopo anno sempre di più sempre di più insomma è una questione forse problematica io non voglio non voglio dar risposte lascio volentieri il dubbio ai lettori però è una cosa che ho osservato e di cui mi sono chiesta più volte ma insomma ci sarà un limite quindi non cioè per me questo diciamo quello che ho visto come diceva lei professore che ci sono delle cose che ci sembrano importanti oggi e poi fra dieci anni non lo sappiamo neanche più se lo sono o no ecco io le cose che forse non saranno importanti nel dubbio le ho raccontate tutti i giorni sui giornali poi negli anni ho osservato ho fatto un passo indietro e dai racconti da quello che ho visto da quello che ho osservato di giorno e di notte magari origliando una conversazione o sentendo un racconto di qualcuno che non c'entra niente col mio mondo è venuto fuori Città irreale per leggere Città irreale per scrivere Città irreale sono tornata a leggermi romanzi di formazione perché comunque il mio modello alto è quello e quindi farei di nuovo Balzac e l'allegra comitiva domanda dunque da un libro che ha come sfondo la migrazione sia pure una specifica molto particolare migrazione occidentale in genere ci si aspetta un discorso un'analisi sui bisogni perché siamo abituati magari anche oggi nell'attualità e sull'onda di altre migrazioni siamo abituati a considerare la migrazione una necessità legata a un bisogno ora non è questo il caso come abbiamo già detto non è il caso di Città irreale e forse è bene che sia così anche perché oggi in Italia spesso questa narrativa del bisogno ha un lato spesso un po' ricattatorio io credo che bisogna potersela permettere questa narrativa se uno non se la può permettere è meglio lasciar perdere è meglio non fingere di poterne parlare invece mi sembra che questa migrazione che ci racconta la storia di Alina è soprattutto una questione di desideri non di bisogni ma di desideri e appunto il desiderio principale è proprio questa ricerca di un'identità che è anche un'identità giocata contro qualcosa che ci si lascia alle spalle un'immagine di sé che si rifiuta e che in qualche modo è legata a una parte della propria vita passata a una parte delle proprie origini a una parte forse anche della propria vicenda familiare io trovo molto interessante anche il ritratto familiare romano che emerge per Barlumi in questo in questo libro quindi contro qualcosa e per qualcos'altro la domanda è per cosa l'impressione è che al centro di questa ricerca di identità e al centro di questi desideri ci sia un'immagine fluida nel libro due o tre volte si capisce che la felicità è associata alla libertà dove per libertà si intende però una cosa che insomma non è così scontato forse specificare per libertà si intende qualcosa una possibilità di non consistere in qualcosa di fermo di stabile di immobile di definitivo la stabilità è il nemico della felicità mentre invece la libertà e la felicità coincidono in questa immagine di dinamica di dinamismo perpetuo ecco ti chiederei magari di precisare innanzitutto se l'osservazione è plausibile di precisare magari il senso di questa ricerca e il centro di questi desideri prima parlavamo di treno di panna quella era un'epoca di desideri nascenti l'impressione è che questa ricerca invece si giochi su uno sfondo di desideri un po' in malora di un po' di roghi di pire di desideri un po' andati a male sì esatto infatti quello che dici è giusto cioè se vogliamo ecco proprio possiamo dire che Roma per Alina è proprio una varanasi dei desideri in qualche modo cioè sono lì che con suo fratello che perde il lavoro con gli amici che vede che dice sono come giovani puledri tutti presi a farsi il recinto da soli per lei sicuramente che ha l'indecisione come dici giustamente è vero lei non ha un desiderio in particolare lei non è mossa per esempio una cosa che osservo molto a Londra piccola parentesi è che spesso le persone che vengono da paesi meno da cultura in cui sono stati meno coccolati in cui hanno goduto di meno benessere rispetto agli italiani sono molto più motivati cioè arrivano diventano imprenditori pazzeschi fanno delle cose pazzesche con un senso della direzione che invece noi italiani raramente abbiamo ma non perché non ne siamo capaci non è questo ma perché chiaramente chi sceglie di andare a vivere in un altro posto molto spesso lo fa perché non sa bene ancora che cosa vuole ma sa molto chiaramente che cosa non vuole più e in questo l'identificazione della felicità con la libertà è quasi una precondizione ed è anche una cosa che empiricamente ho osservato in molte persone nel senso che c'è secondo me una paura che attraverso un passo falso una decisione sbagliata ci sia un vicolo cieco e poi anche se lei lo dice già nell'attacco dice io poi ne scelgo uno frondoso di vicolo cieco nel senso che nella speranza che se proprio devo avviarmi ci siano sempre comunque delle cose da osservare e qualche cosa che mi salvi dalla noia ed è ovviamente è proprio una sorta di paura di definirsi una paura di arrivare a dover fare delle scelte per se stessi prima di essere consapevoli di quelle che sono le scelte giuste quindi questo si può immaginare veramente Londra come il London Eye quella grande ruota panoramica su cui uno si fa un giro due giri e che bello il panorama guarda adesso è cambiata la luce e poi però a un certo punto devi scendere e in qualche modo città il reale proprio la storia di questi infiniti giri sulla ruota per cui non c'è il bisogno materiale io questo ci tenevo perché non sono cieca lo vedo che intorno a me ci sono persone che si sono dovute trasferire soprattutto negli ultimi anni proprio spinte da un bisogno materiale c'è l'assenza di lavoro e così però innanzitutto non mi sentivo proprio all'altezza di raccontarla quella storia nel senso che lì avrebbe dovuto richiedere da parte mia un'altra cosa cioè un vero lavoro ecco forse io su quello avrei fatto un'inchiesta anche se mi sarebbe comunque dispiaciuto perché di inchieste ne ho lette là tante mi sarebbe comunque dispiaciuto dover mettere da parte non avere gli strumenti narrativi per raccontare che comunque c'è un senso d'avventura c'è un senso di evoluzione personale quindi nella ritorica ritorica un po' piagnucolona passatemi il termine del ragazzo che va via allora poi gli manca casa e poi così e che tragedia che rifiuto ma in realtà è vero a metà perché comunque se hai vent'anni e cominci una vita nuova ti batte il cuore e sei contento ecco io questa cosa la volevo raccontare il romanzo era l'unica maniera per raccontarla quindi lo vedo che ovviamente il bisogno subentra e soprattutto a partire da un certo momento in poi dalla crisi in poi è diventato forse la spinta primaria però mi interessava che per lei ci fosse quasi questo eccesso di libertà cioè questo eccesso di assenza di vincoli che a un certo punto ti impone a te di crescere e di cominciare a crearteli tu mentalmente darti tu insomma una bussola personale questo significa crescere anche la più refriattaria la crescita come la mia la mia ragazza a un certo punto no lo fa e quindi mi interessava analizzare questa dinamica e ovviamente in cui felicità e libertà illusoriamente devono convivere e combaciare il più a lungo possibile anche poi quando arriva magari l'uomo giusto al momento sbagliato o il lavoro giusto al momento sbagliato e varie cose però se tu se tu hai quel tipo di brama di avidità ovviamente non ti vuoi fermare beh infatti quando quando il suo compagno le propone di seguirla a Bristol lei comincia a non ci pensare anche per un secondo a lasciare questa città come sono appena arrivata no assolutamente no quindi il quel traguardo lì è più forte dei sentimenti più forte di altre cose questo è il punto ecco io la volevo mi piacerebbe conoscerla un po' meglio questa Alina che fa per esempio molti scrittori soprattutto di adesso lei non lo fa ma per essonerarsi di qualche fatica mettono dentro i film alludono al cinema dicono il tale assomiglia al tale attore e così l'abbiamo risolto qui invece c'è un po' di musica che musica sente Alina? allora per tutti i curiosissimi esiste anche una playlist su Spotify di Alina che io mi sono premurata di fare perché lo trovo una parte importantissima allora lei ascolta musica allora ascolta la musica che le ricorda a casa quindi ogni tanto nel segreto della sua stanzetta ascolta magari Anna Oxa perché comunque insomma la nostalgia è comunque una brutta bestia poi ascolta tante cose lei per esempio Bristol dovrebbe essere in realtà per lei la mecca perché è da dove vengono molti dei suoi gruppi preferiti Portishead Massive Attack e tutto quindi diciamo è cresciuta con questo senso che ovviamente tutto quello che viene da Londra è cool è bello qualcosa a cui aspirare esteticamente qualcosa a cui a cui ambire si rende conto che da romana molti dei suoi gusti o di quello che lei attribuisce agli inglesi come gusti musicali in realtà passa malissimo per cui quando a una festa tutta entusiasta dice mettiamo questa canzone tutti la guardano tipo ma questa cosa qui ma come si fa quindi ovviamente attraverso la musica è tutta la Londra immaginata che lei si porta è il suo bagaglio culturale Alina non è non è un intellettuale quindi lei quello che si è formata si è formata ascoltando gruppi fichi cioè quello che per lei era così era desiderabile e finché quando poi ci si ritrova ci si ritrova in mezzo insomma bisogna poi rimparare a navigare e farsi anche una personalità proprio perché se no poi ti prendono in giro cioè devi diventare credibile devi sapere che cosa rispondere quindi no mi piaceva perché appunto nei confronti del anche lì cioè se avessi citato letteratura o cinema sarebbe stato già un definire Alina come l'intellettuale che non è la musica invece secondo me nel formare l'immaginario poi altrettanto potente e soprattutto insomma è molto più cioè non ecco insomma non prende pose dicendo a me piace molto quella cosa iper di nicchia no? le piace il mainstream le piace quello che le è arrivato le piace quello che magari combacia un po' con la sua anima un po' tutto sommato un po' pensierosa un po' dark quindi quindi sì l'Italia continuava a spiarla via facebook dove perdevo troppo tempo e che consideravo un vizio pari al fumo o all'alcol di tanto in tanto mi dicevo che dovevo smettere e nel frattempo per giustificare a me stessa tutte quelle ore perse a seguire storie di cui in teoria non mi sarebbe dovuto importare niente mi raccontavo di aver bisogno di uno sguardo alternativo sul paese che non fosse quello predominante nella vasta comunità italiana di Londra una narrazione della scoperta della libertà che però era nata già a logora per il semplice fatto che nessuno voleva raccontare la propria storia per quello che era questa è la frase quest'ultima nessuno voleva raccontare la propria storia per quello che era è la frase del libro che mi è risuonata di più in testo è il lato più romanzesco di questo romanzo e mi sembra oltre che interessante vera in sé anche interessante proprio in chiave della tua scrittura credo che un buon romanzo debba fare proprio questo cioè raccontare le storie per quello che sono e mi sembra che proprio su questa dialettica giochino le cose che ho apprezzato di più nel tuo libro ecco ma perché nessuno vuole più raccontare la propria storia per quello che è e Alina ce la racconta fino in fondo la sua storia oppure c'è qualcosa che possiamo diciamo aggiungere e anche forse questa è una cosa che abbiamo parlato rapidamente che a questo punto ti chiedo pubblicamente ne abbiamo parlato un po' in privato ma ne parliamo adesso in pubblico non c'è forse anche un surplus di cattiveria che possiamo immaginare di applicare all'autoanalisi di Alina allora il secondo punto ti rispondo dopo perché è un punto interessante mi ha messo un po' in difficoltà su questo perché alla fine puoi darle tutto questo questa possibilità di andare tornare crearsi ricrearsi dici però insomma non si è neanche comportata tanto bene qualcuno avrebbe dovuta forse sgridare o mettere al suo posto prima Londra è una città di reinvenzioni quindi di persone che sono spesso andate a darsi una seconda possibilità a fare a cominciare un percorso diverso con premesse diverse e che quindi in molti casi hanno questa questa capacità insomma questa cosa si fa comunemente di inventarsi il proprio passato cioè di metterla cioè certo non è che sono venuto qua perché mi hanno licenziato tre volte e mi ha lasciato la fidanzata lo stesso giorno la terza volta mi hanno licenziato ma perché sicuramente cercavo di navigare mari più grandi o cose così questo è una cosa che mi ha molto colpito perché poi è una città che chiaramente ha un'idea da cui deriva imana un'idea di successo fortissima e anche la città e anche la città della finanza la città mi sembra anche lei lo dice all'inizio la sua prima colazione che è felicissima diceva ho pagato tantissimo il bar era orribile non ho capito che cosa ho mangiato però vuoi mettere la sensazione quei legni chiari quella neutralità da pagina bianca che emanava dal fatto che insomma tutto di quel posto può cambiare non significa niente 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 stabile niente fisso e quindi in un contesto del genere secondo me viene facile poi così creare piccoli miti su se stessi quindi è veramente difficile questa è una cosa che ho notato negli anni è veramente difficile parlare con un londinese e costringerlo ad aprirsi un pochino portarlo ad aprirsi un po' perché comunque dici no io vado lì e porto soltanto i vestiti buoni e la parte più bella della mia esperienza quindi ed è e mi ricordo sì facevo queste cene andavo incontravo questa gente e dice madonna che noia ma è possibile perché è una cosa che insomma fa anche molto molto male al senso dell'umorismo ovviamente dopo un po' proprio si rattrappisce lo uccide e quindi è una cosa che chiaramente ho insomma ho osservato ho visto secondo me una caratteristica vera della città sul fatto che lei stessa sia fedele diciamo nel raccontare nel raccontare la sua stessa esperienza allora Alina per quanto mi riguarda più che un personaggio per tante cose è un paio d'occhi no? è un po' come una sorta di così di sonda immersa nell'oceano tipo quelle su cui va a Temporo e fa tutti i suoi documentari cioè Alina guarda molto di sé poi noi non sappiamo neanche come è fatta fisicamente questo qualcuno su una recensione online ha detto sì ma poi insomma neanche ce la descrivi ma in fondo non ne abbiamo bisogno perché comunque sappiamo che è abbastanza carina da essere sedotta dal banchiere fascinosissimo sappiamo che è una ragazza che non ha diciamo limiti fisici ma neanche quella cosa per cui arriva in città e tutti si fermano e dicono cioè e lei in qualche modo è nella posizione perfetta del mentitore nel senso che noi è una narratrice assolutamente poco poco credibile però e però questo la rende secondo me è anche così così tipica così vera cioè proprio vera nella sua nel suo essere filtro di se stessa innanzitutto sul fatto che ci sia stata un po' una mancanza di cattiveria nei suoi confronti questo da una parte sì lo capisco però dall'altra per me quello che era importante era mantenere il più possibile una prospettiva verso il futuro perché questo libro inizia nei tardi anni 90 per la sua storia secondaria parallela che quindi insomma però io volevo soprattutto che fosse un po' un libro intriso di futuro passatemi un po' la frase un po' da cioccolatino però volevo che non ci fossero ostacoli su questa visione che poi comunque va avanti va avanti oltre la Brexit va avanti oltre diciamo le necessità di scegliere in che paesi vivi che cosa fai di te stessa o ti sposi e tutto finisce lì quindi in questo più che una bontà o benevolenza nei suoi confronti è più un desiderio di lasciare campo libero a quello che che la sua storia che insomma pure una minima dimensione collettiva può andare a incontrare magari in capitoli idealmente lasciati così alla fantasia del lettore e il prossimo libro cosa sarà ma non lo so perché in realtà mi piacerebbe proseguire su analisi di personaggi femminili però cercando di così di catturare di catturare temi universali però ci saranno molte sparatorie Vincenzo sicuramente ci sarà molta azione narcotraffico e tutto quindi non ti preoccupare tutti i temi che ti stanno a cuore ci saranno la domanda veramente che volevo fare era che cosa gli succede adesso a Alina cioè cosa succede nel prossimo volume su Alina allora dopo aver intrapreso una comodissima vita tra due città quindi con vestiti sparpagliati tra Londra Roma figli che non si sa più dove stanno mariti che riesci a incontrare io penso che alla fine siamo davanti a una costruzione di un'identità nomade che è molto moderna e molto contemporanea quella di tanti in cui la nostalgia per le giacche del papà e per la Roma la Roma dell'infanzia comunque trova un suo spazio perché non sono cose che si possono mettere da parte e rinnegare del tutto però chiaramente c'è una scelta lei a un certo punto comunque prende atto del fatto che se si è trasferita se ha fatto questa fuga verso un nuovo posto beh insomma questo desiderio alla fine deve essere nobilitato con una permanenza ecco quindi io penso che viaggerà molto si stancherà molto povera ragazza io ho capito che ci sono dei gruppi di lettura e c'è un pubblico molto numeroso quindi se magari il mio spazio lo cederei a qualcun altro che magari invece ha delle curiosità o delle osservazioni non so il libro mi è piaciuto molto e a parte le altre cose insomma che lei ha risposto alcune domande le tralascio e trovo invece interessante questo concetto che ha dell'Italia esce fuori un paese lei dice irriformabile che tratta i giovani come postulanti molesti per cui ha voglia se è molto politico questo libro io lo trovo anche molto interessante per questo perché ci spinge a occuparci invece di politica e a chiederci perché questi giovani italiani anche se hanno un lavoro in Italia hanno voglia di scoprire nuovi mondi senza condannarli l'altra domanda che volevo porre questa trovo abbastanza spietata la descrizione che fa di sua mamma la trovo terribile ecco forse è per questo che è scappata da una da una donna che viene considerata una che toglie qualsiasi briciola da terra per non far crescere le persone come editore posso assicurare che non è un romanzo autobiografico non è autofiction anche perché la mamma di Cristina è in sala vi posso dire che il personaggio e la scrittrice sono due persone molto diverse grazie mille per la prima domanda perché per me c'è un aspetto molto importante nel senso che questo come tante delle storie che ho raccontato vivendo a Londra mi accorgo che ce n'è una versione per l'Italia e una versione che è quella che osservo tutti i giorni e questo per esempio è una cosa molto vera nel caso della Brexit e mi rendo conto che c'è un'entità chiamata Brexit che vive nel dibattito politico italiano non c'ha niente a che fare con la Brexit vera e così e la stessa questione degli italiani all'estero vedo che scalda gli animi e suscita così grandi passioni senza che tante volte si vada all'origine del problema nel senso che non è un enorme tragedia nel senso non è un paese invivibile orribile mostruoso e tutto quanto però ci sono delle cose per esempio quanto riguarda soprattutto il trattamento dei giovani ma che non è quello appunto che il mercato del lavoro ovviamente è un problema gigantesco anche perché insomma parlandone come da vivo insomma mi sembra che questo mercato del lavoro arranchi parecchio però quello che secondo me è particolarmente crudele nel trattamento che l'Italia fa delle giovani generazioni c'è questo scegliere tra una fissità che comunque ormai non si sceglie neanche più perché non c'è e dall'altra parte questo bisogno di espiare la propria giovinezza di lasciarla passare di aspettare che se ne vada come una febbre che deve finire come se non ci fossero poi delle caratteristiche dell'essere giovani che magari non ti rendono così affidabile che poi non lo so insomma mi sembra un po' assurdo però sicuramente una delle prime cose che si si vede andando andando fuori in altri paesi poi altri paesi cioè anche qui non mi piace fare il confronto lì si sta meglio qua si sta peggio no secondo me poi alla fine Londra è una città irreale veramente cioè fatta di un sacco di cose anche spiacevoli e non necessariamente invidiabili veramente però in cui ci sono due o tre cose che ti permettono in realtà di vivere bene questo c'è anche per esempio la famosa polemica di vanno a Londra e poi fanno i camerieri ecco questa è una cosa che sto dicendo molto in questi giorni però nell'arco di crescita di un cameriere ci può essere molto c'è il potenziale di diventare il capo sala c'è la possibilità di imparare molto dal tuo capo oppure conosco tante persone che adesso hanno lavori bellissimi e che sono arrivati come camerieri in Italia questa cosa non l'ho sentita così spesso quindi secondo me la questione irriformabile è veramente il punto più crudele secondo me veramente crudele è questa cosa di non mettere diciamo le persone in condizione di crearsi una piccola autonomia che sia piccola anche non deve essere non deve essere chissà che quindi la possibilità di non so gestire le proprie tasse in una maniera non vestatoria non da patemo ad animo la possibilità di mostrare quello che vali a prescindere dal fatto che appunto non sei senior non sei ora però magari ecco magari sei interessante ecco quindi in questo c'è c'è sicuramente una cosa una componente politica che per me è importante perché appunto se no diventa un pochino quella cosa ma cosa ha lei che io non ho e cosa ha lei che io non ho ha la pioggia i topi la mochetti in bagno un sacco di cose terribili popolazione che non ti parla mai delle cose di cui vorresti parlare e però invece su tante cose ti dà lo slancio quindi insomma alla fine senza farne una questione gigantesca cioè sono pochi punti ecco in questo libro vorrei anche spiegare alla fine cos'è che fa la felicità proprio le cosine quasi burocratiche che ti permettono di realizzarti che poi appunto non sono tante cioè sono una piccola autonomia in questo la mamma è ovviamente insomma ho creato forse una una divisione dei ruoli un po' ingiusta tra i genitori tra questo papà dolcissimo struggente che in qualche modo incarna tutto quello che ti mancherà sempre no? quell'imperfezione calda che però è quella in cui sei cresciuta e la mamma che invece secondo me è molto è un po' così un emblema di una generazione che poi giustamente ha visto una grande crescita per sé ed è diventata ansiosa pensando oddio ma questa crescita poi deve proseguire deve proseguire per i miei figli e quindi le cose c'è un modo di farle e un modo di non farle però ormai diventa una sorta di come dire di scaramanzia vuota perché poi i figli vengono licenziati e le cose non vanno come pensi quindi questa mamma che però insomma va detto la tratto male ma non è che ne parlo tantissimo quindi insomma due cosette sicuramente era un pochino forse è un po' un coro greco mentale che ti tiene in testa e che ti condiziona nelle tue scelte lei sicuramente insomma questo non è risente la prima domanda conoscendo Cristina da quasi vent'anni è perché Balzac tu sei Stendhal non sei Balzac questa è la prima domanda e poi l'altra è quanto tempo ci hai messo a scriverlo e perché il nome di Alina che secondo me non è un nome molto italiano e quanto di perché in ogni personaggio c'è una parte di noi quanto c'è di te in Alina anche se insomma mi sembra che mi hanno già dato la risposta precedentemente ok allora Balzac perché mi piacciono i romanzi ciccioni in cui viene fuori tanto tanto movimento e tanti personaggi quindi quella è proprio una questione di così di di infatti io come dice il professor D'Amico non le faccio cioè metto il personaggio e poi scappo via poi quanto ci ho messo ci ho messo tre anni nel senso che però dico sempre tre anni di scrittura ma poi non tre anni sono stati quindici mesi di scrittura però tre anni diciamo dall'inizio alla fine la pubblicazione e penso una dozzina di osservazione perché comunque tante cose cioè nel momento in cui mi sono messo a scrivere ovviamente erano già lì totalmente per quanto riguarda Alina invece mi piaceva perché è un nome che spiazza un po' quindi è sempre un nome un po' da straniera io ho una cara amica che si chiama Alessandra che ho sempre chiamato Alina Alina è un nome che ho visto arrivare dall'est dal scandinave che si chiamano Alina italiane perché per esempio ecco che stanno capitando recensioni molte Aline mi stanno scrivendo sì sono popolarissima tra le Aline cioè vado veramente forte quello è un po' il mio il mio gruppo così e quindi mi piaceva proprio perché era un nome che spiazzava sempre cioè un nome di una persona sempre un po' fuori posto un attimo appoggiare perché sì allora io invece parto dunque due domandine una parto dall'irrealtà di questa città naturalmente c'è un riferimento a Elliot no? nella terra desolata però mi è piaciuto invece mentre lo vede come una cosa tetra e io leggo proprio invece le sue parole quando esce dalla metropolitana e dice dalla stazione della metro il corteo di viaggiatori si separava non senza ordine i più istituzionali andavano verso le banche i più stanchi verso gli uffici legali i più disinvolti verso le agenzie come la mia dove il personale era giovane e una certa eccentricità ecco perché quello che io che ho colto attraverso quelle che possiamo chiamare perle che ogni tanto lei mette per darci un'idea di questa irrealità allora lei dice c'è un tipo di donna che però è un tipo umano che si ripete come le case ecco lei parla anche delle case naturalmente parla di quella centrale elettrica che sarà riformata e lì lei fa il cenno appunto lei usa personalmente la parola irreale riferendosi al mondo del mago di Oz insomma allora voglio dire poi ecco c'è anche quindi da un lato diciamo l'architettura dall'altro lato anche invece i sentimenti perché lei quando va a Lina naturalmente quando va a Bristol vede la differenza lo scardinamento non c'è lo scardinamento però che c'è a Londra e questa patologica riservatezza ecco allora tutti questi indizi e poi mi ha colpito anche quando lei dice il cartellino è come se avessero un cartellino un cartellino che definisce un po' la persona il prezzo la persona anche il posto ecco questo quindi in questo senso l'irrealtà è tutta sua voglio dire come la definizione di realtà alla fine è tutta sua diversissima da quella che poteva essere lo spunto iniziale di Elliot ecco poi dopo questo no perché ce n'ho un'altra due dunque questa dell'irrealtà e l'ultima parte io leggo sempre il finale e nel finale io trovo sempre no un momento ditemi non è un finale non è della storia d'Alina il finale per favore non è questo che voglio dire diciamo leggo perché c'è sempre un messaggio nel foglio finale no quando lei parla della cartolina del cottage e parla poi anche di questo giardino che lei aveva insomma Alina naturalmente e Hoxton no che cresceva così e che un giorno lei gli viene in mente di innaffiare e la vicina che passa e dice ma tanto è inutile moriranno ecco è una metafora voglio dire di certi sogni di certi oppure del tempo che passa e quindi voglio dire si deve crescere si deve maturare ecco finito allora io per la frase finale devo ringraziare sentitamente la mia vicina di casa che me l'ha detta davvero lasciandomi a bocca aperta non è una ci ho messo tre quattro anni a capire come potevo reagire a quella frase alla fine ecco quella è l'unica cosa veramente autobiografica del libro è l'ultima frase perché sono rimasta impalata per un po' di tempo allora per quanto riguarda la prima domanda una città per il reale allora è vero no? molto concreta ci sono gradazioni ci sono caselle c'è la cantilena c'è la casa che è più grande lo stucco burroso la povera porta di plastica e tutto quanto è vero però quanto è il reale pensare di poter fare il giro di tutto questo cioè in qualche modo di potersi muovere in questa sorta di quadrettato pensando di poter voltare pagina all'infinito ovviamente questo è il principio che è reale l'uso che si fa della città che è molto irreale perché comunque sia è come se ti rimettesse sempre davanti lo stesso schema dicendo risolvilo un'altra volta risolvilo un'altra volta finché no non arrivi a una soluzione quindi in questo sicuramente mi interessava il concetto di realtà perché può diventare è una città in cui molte persone vengono paralizzate non prendono decisioni perché sanno che ne potrebbero prendere tantissime è come trovarti davanti a un banchetto troppo grande in cui dici ma che mangio ma che mangio è buono il prosciutto però così ecco Londra ti può far questo ed è irreale per quanto riguarda invece il finale che visto che insomma stiamo spoilerando abbiamo una vita scomoda fra due paesi no a me interessava ancora una volta che si riaffermasse cioè c'è qualcuno che ti dice tutto quello che farai è inutile tanto si muore ma tu sei straniera puoi pure non aver capito e in fondo lì ti riappropri della tua possibilità tutto sommato di farla finta tonta o insomma una sordità selettiva culturale che alla fine sai che cosa è un grande strumento io me lo gioco quindi questa era la mia interpretazione mi hanno anticipato praticamente su tutto il personale eccetera volevo sapere la letteratura va al di là del presente va al di là del contingente va al di là del mi sembra ci sia molto presente anche se non ho letto il libro volevo sapere tu dove hai lavorato perché il libro va dal di là del presente va dal di là del del e non dico resti ma comunque sulla lingua esattamente allora innanzitutto gli ho dato una certa agittata penso facendo un passo indietro quindi c'è molto presente però quello che mi stanno cioè tanti lettori mi stanno dicendo è togli subito quella parola Brexit perché non ti rende giustizia cioè il libro è molto più di questa cosa cioè il fatto che possa essere in qualche modo condannato diciamo a una lettura a come era bello in quell'estate del 2019 raccontare e leggere la storia di Alina non è quello che che ho voluto fare è stato per me una cosa importante innanzitutto far maturare molto l'osservazione dietro a questo romanzo per cui è vero ci sono tre anni di scrittura ce ne sono nove di osservazione ci sono tante letture cioè non è un instant book sulla Brexit per me e poi la lingua la lingua come giustamente mi suggeriva Vincenzo ma tanto noi ormai pensiamo uguale la lingua cioè cercare di dare il più possibile una come dire una pelle classica a questa storia ecco per me questo era proprio importante lei tocca un punto importante cioè per me era importante che questa vicenda che è una vicenda collettiva avesse recuperasse alcuni elementi di classicità proprio nel termine di è una storia importante di formazione universale che ha la stessa dignità di quella di appunto un qualunque giovane ambizioso ottocentesco di cui abbiamo amato leggere le gesta in qualunque età della nostra vita perché mentre ci concentriamo a pensare che questo è importante quest'altro è importante o qua c'è qualche cosa che cioè si sta facendo un pezzo di storia si sta facendo un pezzo di storia del nostro paese che è al di fuori del nostro paese quindi io volevo che questo frammento fosse raccontato bene perché secondo me se lo meritava e soprattutto perché attraverso la forma romanzesca secondo me si cattura più verità di quella che la cronaca ci permette di così di fotografare quindi sicuramente ecco in questo c'è stato proprio uno sforzo uno sforzo importante di di cercare una lingua che fosse all'altezza di quello che io ho visto che ho analizzato e che mi permettesse poi di fare la cosa che mi è piaciuta fare di cui parlavamo prima con Gigi cioè far fuori due o tre stereotipi ecco perché ce ne sono tanti in circolazione se non ci sono altre domande ringrazio i presentatori e l'autrice dimenticavo una cosa importante ovvero che adesso Pontelegrazi offre un piccolo rinfresco per festeggiare Cristina qui nel giardino della casa delle lettature al quale ovviamente siete tutti invitati grazie mille grazie a tutti